Qui a Fiastra è una bellissima giornata sia per il sole e il clima ma soprattutto perché grazie a un intervento si riapre un piccolo centro commerciale con tutti i servizi che prima erano collocati all'interno della comunità che ritrovano finalmente una casa. È un'installazione provvisoria ma di grandissimo valore perché è quel segno di ricostruzione, di ritorno sul posto, di quelle condizioni minime per poter ripartire. È uno dei tanti interventi che regioni, comune, protezione civile, province, istituzioni, tutti insieme stanno seguendo con l'obiettivo di ricreare le condizioni di vita in tutte le parti della nostra regione. In questo caso essere arrivati a questo traguardo dà un grande segno alla comunità di ripartenza. Continueremo con le casette, con tutto quello che serve fino a ricreare le condizioni che ci permettono di accompagnare la ricostruzione vera e propria perché ovviamente l'obiettivo non è quello di stare in case provvisori ma di tornare nelle strutture originali che è il motivo della ricostruzione ma di poterlo fare con dei borghi vivi, attivi, vivi.